Abbiamo ancora parecchi eventi, tra cui quelli un po' più noti, ma l'evento che ci tengo in particolar modo a annunciarvi oggi è quello di sabato 7 settembre, dove dopo una carellata di questi bellissimi gruppi, bravi gruppi comuni che insieme alle amministrazioni comunali e ovviamente a capo della comunità montana come organizzazione arriveranno alle Terme di Boalio proprio sabato sera, sabato 7 settembre con ingresso libero per farsi conoscere proprio a tutti quanti. Poi abbiamo il Parco dei Balocchi che è giunto alla dodicesima edizione, per cui 12 stagioni sono tante e sarà il 15 di ottobre con ingresso libero e poi vi diremo man mano tutte le novità e le cose belle che abbiamo preparato per i bambini. Poi subito avremo mola in passarella che è sabato 5 ottobre e chiuderemo con la manifestazione che chiude un po' da un po' di tempo tutti gli eventi delle Terme che è i colori d'autunno, dove raggrupperemo tantissimi espositori enogastronomici e ovviamente le stazioni sciistiche, le scuole di sci per una promozione con l'inverno che arriverà. Questo è un po' l'anticipo e nel frattempo altre piccole sorprese che non faremo altro che annunciarvele prossimamente.